al telefono ma dove? al telefono a quel salame lì viene troppo tardi guarda puoi prendere tu e se li metti i figatti ho sbagliato allora allora che no no arriva allora aspetta un attimo Roby apri dai va bene quello lì rompi i coglioni va bene quel bicchiere vado olè tanti auguri a te tanti auguri a voi tanti auguri novembrini ora che bravi tanti auguri tanti auguri tanti auguri le costini no no come gusto le buone costini di alferneri costini erano buoni ma erano buoni anche i bisi erano buoni fegatini no i bisi di gel l'orto adesso salvia o rosmarino e cosa basta e timo giro la foto questa la vuoi fare la fotocopia perchè la vuoi anche io tutti ma questa è glomia adesso vedo perchè è glomia questa le cinquant'anni no fare la foto fare la fotocopia lì a affini mi fanno la fotocopia mi fanno la fotocopia quante sono 8 o 9 e fanno anche sì 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 lì no non no no Grazie a tutti.